Ricco bottino per le squadre impegnate fuori casa nel quarto turno di ritorno del campionato di C-Silver di palacanestro maschile. Ben sei successi esterni su otto incontri, fra questi anche quelli del trio di testa con qualche patima per Nardò, che a Castellanita ha sorpassato i padroni di casa solo nel finale. Sempre un incontro in meno per le altre due battistrada Vieste, che a Monopoli ha chiuso sul più 28 contro Action Now, e Diamond Foggia, Corsara a Fasano dopo il secondo cambio sulla panchina brindisina. A far da cuscinetto fra le prime della classe, le altre resta Manfredonia, ora a braccetto con Udas Cerignola, che ha riposato dopo la larga affermazione di Lecce. Ai margini della zona play-off sale al sesto posto Libertas Altamura, dopo la vittoria su Francavilla, che vale l'aggancio ad Adria Bari, sorprendentemente sconfitta a Brindisi da un'invicta sempre sul fondo, ma ora tornata in compagnia. L'ottava posizione è sempre di Juvetrani, ma a quattro punti si sono rifatte sotto Olimpica Cerignola, che ha sconfitto a domicilio i ragazzi di Scocci Marro nella gara da Dio Dionetto, e Cestistica Ostuni, che ha staccato Ruvo dopo averla battuta nello scontro diretto del Palacolombo. In Serie D resta netto il percorso di Corato anche dopo la prima di ritorno, fuoriera di una vittoria casalinga su Angiulli Bari. Non demorde nuova palacanestro Ceglie, che resta a ruota della capolista dopo aver sbancato il difficile campo di Barletta. La sconfitta casalinga costa ai Biancorossi l'aggancio di Santeramo, vittorioso a San Giorgio Ionico contro Virtus Taranto, e soprattutto il distacco da Molfetta e Monopoli, che si contendono la terza posizione dopo i successi contro Cisternino e Calimera. Nella pancia della classifica, bene Hans, Pisantarita e Lecce, passate rispettivamente a Mesagni e Rutigliano. A completare il quadro di giornata, la stracittadina brindisina, che ha visto Aurora battere e distanziare di 4 punti, 12 contro 8, Poseidone e Assi-Brindisi.